buongiorno sono marco storia di vg.log ed oggi ho il piacere di presentarvi le top 3 postazioni da lavoro più vendute nel 2022 nell'ultimo anno infatti abbiamo realizzato diverse postazioni e banchi da lavoro per molteplici settori produttivi riscontrando un notevole successo all'interno della logistica e dell'e-commerce in particolare nelle fasi di imballaggio ed evasione degli ordini le postazioni da lavoro realizzate con profilo tubolare smart tube completamente made in italy sono una soluzione perfetta per le attività di assemblaggio imballaggio o collaudo e possono essere sia spedite su kit tagliate su misura oppure già assemblate e complete sono modulari e flessibili personalizzate sulla base delle esigenze degli operatori in modo tale da rendere le operazioni più sicure ed ergonomiche inoltre ad esse si possono integrare molteplici accessori come porta utensili porta monitor o supporto illuminazione oppure le ruote per poterla movimentare all'interno dello stabilimento produttivo insomma una soluzione completa andiamo quindi a vedere nel dettaglio le tre postazioni di lavoro più vendute nel 2022 la prima soluzione è la postazione per l'imballaggio 2000 per 800 per 2120 questo tipo di soluzione ha trovato applicazione all'interno di un app logistico nella fase di impacchettamento degli articoli oltre al piano in nobilitato grigio abbiamo previsto un pannello forato così da consentire all'operatore di disporre l'attrezzatura in modo ordinato potendola prelevare quindi in modo agevole ed ergonomico avendo quindi un banco da lavoro pulito e ben organizzato al di sopra invece una rastrelliera suddivisa in scomparti regolabili dispone i cartoni e i componenti necessari per il packaging invece al di sotto abbiamo inserito una rastrelliera su ruote sempre per andare a inserire i materiali necessari per la fase di imballaggio ovviamente una soluzione dotata di ruote con sistema frenante così da rendere questa postazione di lavoro facile da manovrare all'interno dello stabilimento e quindi una soluzione assolutamente flessibile 2 banco per l'imballaggio dotato di tre ripiani estraibili 3000 per 1500 per 950 banco provvisto di ruote così da poterlo movimentare agevolmente lungo le linee produttive ma anche dotato di piedini regolabili in altezza in modo tale che una volta trovata la posizione ideale all'interno dell'area imballaggio possa essere bloccata terra in assoluta sicurezza al di sotto sono presenti tre scomparti in modo tale da disporre in modo organizzato i cartoni necessari per il packaging invece i tre piani estraibili rendono ancora più ergonomiche l'operazione di prelievo dei materiali velocizzando il processo di imballaggio e quindi anche di evasione dell'ordine i piani estraibili non solo migliorano l'operazione di prelievo dei materiali ma ottimizzano anche l'intera struttura in termini di spazio infine all'interno del centro di distribuzione del nostro cliente sono stati inseriti monitor e tastiero ecco perché abbiamo previsto l'applicazione di tre fori passacavi in modo tale da non ingombrare il banco da lavoro al terzo posto invece troviamo una postazione per l'assemblaggio 1200 x 740 x 2008 è stata progettata e realizzata per un'azienda del settore automotive e come vedete dal render insieme ad essa è stato integrato anche un flow rack così che le cassette provenienti dalle corsie a rulli arrivavano direttamente sul piano di lavoro dell'operatore in modo tale quindi da rendere ancora più ergonomiche e veloce il processo di picking dei componenti necessari poi per la fase di assemblaggio una soluzione completa e personalizzata dotata di ruote con sistema frenante quindi da poterla movimentare in modo flessibile all'interno del layout del sito produttivo dotata anche di piano di lavoro in polizeno materiale quindi resistente per supportare le fasi di assemblaggio e per non rovinare il banco da lavoro potendolo facilmente mantenere nel tempo inoltre ad essa abbiamo applicato una cassettiera estraibile sempre per rendere ergonomiche l'operazione di prelievo dei dei componenti e consentire l'operatore di immagazzinare in assoluta sicurezza documenti e attrezzatura infine per non affaticare la vista dell'operatore all'interno del layout del sito produttivo abbiamo previsto l'applicazione di una lampada a led ed un binario monorotaia su cui verranno applicati due ganci porta attrezzatura quindi se state cercando delle soluzioni per il 2023 in grado di migliorare e rendere ergonomiche sicure le fasi per esempio di assemblaggio imballaggio collaudo visita il nostro sito www.bglok.it nella sezione postazioni da lavoro troverai una libreria suddivisa ai banchi quindi sistemi facili dotate di un solo piano oppure di un piano più mensole postazioni per l'assemblaggio postazioni per l'imballaggio e postazioni da lavoro con supporto monitor e tastiera vigilog be clever and work better with smartcube system